Ciao Giuseppe, benvenuto a Voice Talks, presentati in 10 secondi. Ciao, sono Giuseppe Ippoliti e andate a visitare il mio profilo Instagram, è tutto lì! Fatto! Questo è il branding, questo è anche il branding. Quando ti sei detto, ok, posso e voglio fare il doppiatore? Quando me lo sono detto? Da sempre, da sempre, ma non sapevo che si chiamava doppiaggio, non sapevo che si chiamasse doppiaggio. Io ero piccolo e mi divertivo a imitare le voci dei miei zii, dei miei cugini, delle persone che incontravo e quindi dentro casa c'erano vari personaggi ma ero tutto qua. E questa cosa poi ho scoperto nel tempo che è un processo che assomiglia molto a quello del doppiaggio in quanto fondamentalmente il doppiaggio è un processo imitativo perché vedi qualcosa nello schermo e devi rifare la stessa cosa. Ok, quindi comunque tu hai unito, diciamo così, poi il doppiaggio anche alla recitazione, no? Perché comunque sei anche attore. Quali sono le somiglianze secondo te che ci sono tra queste due discipline? Che ritrovi? Beh, più che somiglianze forse sono imprescindibili, cioè sono legate. Se vediamo a doppiaggio una scena in cui qualcuno ride, devi ridere. Se vediamo una scena in cui qualcuno piange, devi piange. E se vedi una scena in cui qualcuno è innamorato o dice una frase d'amore, devi andare a pescare attraverso tutte le tue emozioni di esprimere la stessa cosa. E questo è possibile, diciamo, attraverso sicuramente un talento. Se chi fa doppiaggio parte già con un talento importante, ma soprattutto con tanto studio. E credo che un percorso recitativo sia fondamentale per approcciare a un lavoro come questo. Sicuramente lavoro d'attore, ma io mi sono trovato inizialmente nel mio percorso di doppiaggio un po' avvantaggiato rispetto a chi non aveva fatto nessun corso di recitazione. E mi sono trovato in situazioni in cui mi sono tornate utili tante cose. E quindi è stato uno stimolo per me poi continuare a studiare, fare teatro, masterclass di qualsiasi tipo, insomma, aggiornarsi sempre in merito a questo campo. Che poi, insomma, è la chiave per riuscire a esprimere ciò che racconta il personaggio. Quindi comunque, partendo anche dalla tua esperienza, parlerei anche della tua professione di attore. Tu hai recitato recentemente sia su una serie di Amazon Prime, Monterossi, adesso invece ti abbiamo visto sul grande schermo in Corro da te, insieme a Pierfrancesco Favino e Miriam Leone. Ci racconti un po' il tuo personaggio? Sì, allora il mio personaggio è... Io sono un dipendente di Pierfrancesco Favino che nel film interpreta un padrone, il padrone di un'azienda, adesso il nome dell'azienda non me lo ricordo, però produce scarpe da ginnastica e io sono un suo dipendente. Allora Pierfrancesco Favino nel film corre tutti i giorni, è un salutista, si tratta bene e io invece a ogni momento libero che ho della mia giornata fumo, ogni angolo fumo e infatti lui ogni volta mi sgama, ogni volta che fa ogni apposto e passa il padrone. Insomma scambio qualche battuta con lui, è un ruolo piccolo per carità, è un ruolo molto piccolo, però io mi sono trovato subito bene per Francesco Favino, durante le riprese è stato fantastico. fantastico, cioè io credevo fosse bravo ma in realtà è ancora più bravo. Ma come hai fatto? Veramente bravo, recitare insieme a lui sembra che tu non stia recitando, è facile, sembra come parlare così tra di noi, è molto spontaneo. E quindi poi lui ha detto no bravo complimenti, è bravo. Me l'hai reso facile, no non è vero, immagino che sia stato sincero. Fra l'altro appunto tu ora mi dici che fumi nel tuo film. Nella scena ho dovuto fumare un pacchetto, sai non fumo, però mi sono portato un pacchetto di sigarette perché magari una me la dà la produzione, poi faremo due o tre volte la scena, 40 volte è stata la scena, quindi nella scena io si vede che fumo due volte, ma in realtà l'abbiamo girata molte volte e ho fumato un pacchetto di sigarette due giorni a letto. Cioè perché tu non fumi, cioè è strano nel senso perché molti doppiatori fumano e tra l'altro tu non fumi in quanto doppiatore non so se è una caratteristica, ok. Però appunto tu sei... L'ho visto anch'io che molti fumano, non lo so perché. Eh non lo sappiamo, ce lo siamo domandati anche noi, non iniziare a fumare comunque. Forse per avere la voce molto più profonda. No, ma non lo so, non lo so. Però appunto tu non sei solo doppiatore, non sei solo attore, sei anche insegnante di edizione all'interno della nostra scuola qui a Radio Speaker. Ah sì? Così dico, non lo so, così dico. Sono io, è vero, è vero, sono io, sono io. Appurato. Quindi ti chiedo un consiglio per rendere più efficace la comunicazione che tu trasmetti ai tuoi alunni. Allora il primo consiglio che io do è cercare, si dice tante volte, no, no, rilassati, sii te stesso, non ti preoccupare. Ma come si fa? Più me lo dici e più non ci riesco. Eh no, calmati, adesso calmati. Oddio, mi devo calmare. Che cosa accadrà? Ecco, il consiglio che io do è... A me hanno insegnato due semplici parole che forse non si possono dire perché c'è una parolaccia in mezzo. Il mio insegnante, uno dei miei insegnanti, Agno Coltorti, si presentò un giorno con un foglio. Ragazzi queste sono le due parole che vi cambieranno la vita e sono sti... Allora io le ho tradotte in, come dicono a Londra, che ti frega, che ti frega, che te ne frega. Allora, questo è il consiglio che io do per riuscire ad avere la più quotidianità possibile in una situazione in cui già sai quello che accadrà. Perché tu sai che se devi leggere qualcosa, se devi recitare qualcosa, già lo sai. Per quanto riguarda la comunicazione, il consiglio che do è di cercare il più possibile di trovare una strada che possa essere più semplice per te, almeno all'inizio. Perché fa venire fuori tutti i tuoi lati. E chi ti ascolta o chi ti sente, chi ti guarda, ti guarda per quello che sei. E quindi non è qualcosa di costruito che poi devi pensare Oddio, adesso che cosa mi posso inventare? No, sono io, sono così, con i miei difetti e i miei pregi e secondo me è la strada migliore. Poi, insieme a questo, se si vuole studiare comunicazione, se si vuole studiare altro... Però il primo passo, secondo me, è proprio questo qui. Bella chiusa. È finito! È chiuso! Grazie mille Giuseppe di essere stati insieme a Noia Voice Talks. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao, ciao. Grazie a voi.